tenetevelo, quello che imparate dal Maestro, tenetevelo, cercate di conoscere di più. Ogni respiro che stai facendo con questa intenzione, merita, vale, è worth, vedrete, vedrete. E cercate di crescere, tenetelo, e vi aiuteranno. Dal mondo invisibile, riceverete aiuto, non preoccupate di niente, bisogna non preoccupare. Shaitan diventerà pazzo, anche Shaitan sa anche che la sua fine è vicino. Shaitan sa anche che la sua fine è vicino, e sta diventando pazzo. Sta spremendo dalla gente quello che riesce a spremere, ma non ti può toccare. Se sei con Allah, Lui è con te. Se avete intenzione di essere con Allah, Allah sarà con te. Se pensate a me, vuol dire che io sono già nel tuo pensiero. Se tu pensi a me, vuol dire che io sono già nel tuo pensiero. Chi si ricorda di me, io mi ricorderò di Lui. Chi si ricorda di me in un gruppo, io mi ricorderò di loro in un gruppo migliore. E Allah dice tante volte, siate con me, io sarò con voi. In realtà, ha un desiderio. Il tuo desiderio viene dal suo desiderio di essere con noi. Usatelo e cercate di essere con il vostro sceich. Con i santi. Il santi è responsabile per voi, come il vostro padre e la vostra madre. come un milione di padri e un milione di madri. Lui è a cura di te. Nulla ti può toccare. Le persone si diventano stupi. Le sofferenze si diventano più. Le sofferenze si diventano più. La pazzia cresce. Le sofferenze si diventano più. Le sofferenze si diventano più. Le sofferenze si diventano più. Come si diceva? Ogni tipo di violenza aumenta. Le sofferenze si diventano più. E noi saremo protetti. Mantenetevi col maestro, colo sceich.